... è una regola che lei ha dato, una regola che lei ovviamente quando era a disposizione mi ricordo, è una regola che io sempre condivido, è la stessura che ovviamente viene quando viene in interlocutazione, è un regolo che nessuno ci viene da interlocutare, significa i metralli tirati a due, è il pallone, marchi! Grazie Presidente, pregresso che qui non siamo a scuola, dove c'è gli insegnanti che serva la canzone. Gli accessori, credo che su questo punto si faccia chiarezza una volta che tutto, perché noi svolgiamo un nuovo luteo e quindi in quanto tale abbiamo il dovere e talvolta anche il diritto di poter intervenire quando siamo chiamati in causa. Io mi sento chiamato in causa perché è stata messa in capo una forma di contestazione tecnica e politica per quanto riguarda il diritto di Milano. Per quanto riguarda il diritto di Milano e quindi ho corretto conto di quello che è la parte che con me abbiamo assessorato. Mi sei aspettato, vuol dire, nella tua osservazione di ordine a fatto se l'assessore è un banale torno che l'assessore spingga i bocini per cui mi chiede di prendere la domanda. Sì, però ci sono un progetto. E' un'altra cosa che mi chiede di prendere la pista. No, io non sono corale, ma io sono un genio di assessore con il tanti altri. E' indubbiamente un atto dell'assessore ma il equilibrio di comprendere questioni che riguardano più assessorati e quanto la verità di portare un contributo via. E' solo per quello. Non voglio fare una polemica politica perché ci sono i covistieri che se loro votano la nostra locale, ma quello solo sottolineato. E' solo due crisi che questa amministrazione, vuol dire, governa la città e mi sembra ingiusto il generoso che la conquistazione in ordine a vedere il fuori di l'anno sia la sua attività. Poiché io ho detto che le forme di contestazione politica, è giunto che ci siano perché anche in una sollecitazione, a dare il tempo alla comunicazione di consumare i tanti per cui poi si possono contestare. Io ho detto così chiaro, ma dico, come dire, una cosa superta, un attimo, che noi abbiamo fatto un'azione di ricondizione in via potenziale e professionale su quelli che possono essere i temi di fuori di lato perché forse è bene che non si crede che non si crede che non si crede che non si crede che non si crede. E cosa spera accettare? Cosa che noi saperemo? Con capitalità. Con capitalità perché è una buona presa, giù, non si crede che non si crede che non si crede che non si crede. L'abbia, c'è un governo, mi riferisco alla dirigenza, sto partendo, alle proced 채 in amministrazione e alla legittimità. In questo senso, tra i tempi di voluminaggio riguardano il modo controllato e la condizione, alcuni sono condizioni, quindi potarsi, non so se soffontiamo o se riusciamo a vincere, altri tempi di voluminaggio riguardano un lavoro straordinario. Ma, beh, mi chiedo, quando fanno un lavoro straordinario, i momenti in cui si concentrano straordinarie sono le parole per le persone, spesso. E quindi, per esempio, è strano, c'è un programma, lo vedete, non so se riusciamo a vincere. Lo dico, non cerca andare ad accettare le responsabilità, le persone che hanno accettato che ha provato il tempo che può aiutare, perché c'è il momento in cui ha provato, ma forse è nuovo, non è la vostra situazione. Però, ecco, se riusciamo a vincere queste cose, io, perché è una poca impossibile, perché ho l'assessore, ho l'assessore, ho l'assessore, ho l'assessore di dire che non c'è il tempo si fa, non c'è il tempo si fa, non c'è il tempo si fa. Io gli voglio conoscere il dubito, non c'è il tempo, ma che punto è che nel scorso, dove avrete una cosa che si fa, quando si dice che mi fa, non c'è il tempo, e poi non c'è il tempo. Ma di chi si fa, non c'è il tempo, lo dico, adesso io non c'altro, un po' di azione, ma che c'è anche una altre questione, che sono state certe per dire, a dei giorni di questo motivo, io credo che noi dobbiamo mettere in campo un'azione piccola, non solo per la famiglia sia, per il momento che si è stinto, perché magari si risale negli anni, c'è tutto un lavoro d'altro, un altro video di gioia, che nel prossimo momento è troppo tardi, non ci siano raggiunti, voi vi lascio, e quindi vorrei dire anche su questo, quindi sulla nostra capacità di volerlo, grazie. Io ringrazio il l'assessore che si contiene,